Un vasto promontore anticiclonico va rimontando dalla Spagna verso l'Europa centrale e sul Mediterraneo portando a condizioni di stabilità atmosferica per l'intero fine settimana. Dal lunedì tornerà invece un po' di instabilità. Per sabato prevediamo bel tempo su tutta la regione con cielo sereno o il più poco nuvoloso, venti a regimi di brezza sulla costa, temperature massime tra i 26 e i 28 gradi. Domenica ancora bel tempo al mattino con cielo prevalentemente sereno, dal pomeriggio un po' di variabilità in montagna e verso sera non è escluso qualche locale rovescio al confine con il cadore. Farà più caldo, temperature massime tra i 28 e i 31 gradi in pienura tra i 26 e i 29 sulla costa. L'unidì giorno di ferragosto probabilmente avremo al mattino bel tempo con cielo in prevalenza sereno, dal pomeriggio un po' di variabilità in montagna dove sarà probabile qualche rovescio o qualche temporale che poi verso sera potrebbe interessare anche qualche zona di pienura. Farà ancora caldo con temperature massime tra i 30 e i 31 gradi in pienura. Dall'Osservatorio Meteorologico dell'ARPA, Livio Stefanotto